Teorica dovremmo essere in live Prettamente teorica E ti dico che sei in live E io ti dico che si Deglialo Un attimo che c'ho A me non mi ti da E tocca Rifresciare Perché è fottutamente invulnerabile Io nel frattempo sto facendo due cose contemporaneamente Non solo sto mettendo la live su smartphone Ma sto anche cercando di completare una quest Io sono multitasking Ah il PeeWeeBot funziona Eh lo so che funziona Grazie per qualsiasi cosa sia successo Ma come Io sono stato Grazie no ma l'ho sempre saputo Volevo testare la tua preparazione Mamma mia Non vedi la live Allora io sto cercando Però vedo il Su quale Burst Damage PeeWee Il canale dei ragazzi speciali Ok Potevamo chiamarci Possiamo chiamare la gita i ragazzi speciali È però speciali Ma perché mi parla con il gatto No diversamente abili No quello un po' troppo Grazie per quello lì Un follow giusto Mi sa di sì Grazie per il follow Grazie lì Adesso il PeeWeeBot mi dice anche Chi è che mette follow Mamma mia Ormai siamo troppo professional in questo canale Niente E comunque vi ricordo Vi ricordo In voi che siete in vocale con me Che adesso ci sono pure i suoni Perché il mio Che puoi sentire solo tu No no ma In quel caso sì però In questo caso sì In questo caso vi potete sentire anche voi Perché li sento io E di conseguenza li sentite anche voi Quindi aspetta Non mi ricordo i suoni Ma ce n'era uno Che era questo Esattamente Io nel frattempo sto cercando di completare sta quest Ho completato questa quest L'altro cuoricino vicino invece Ma quei due triangolini li ho già sbloccati Sì ok I due triangolini sono Sì la panoramica che ti fa vedere Il problema però qual è Che devo setacciare tutta la città Per cercare di completare sta quest Quello è un portale Arrivo Mi sono messo una playlist in sottofondo Che fa tanto youtuber 14enne Però intanto Per un contesto fantasy Credo che sia la più indicata sinceramente Una cosa del genere Protetti Allora se non parte Se non parte più il tira Mi sa che c'è un delay di tipo 3 secondi Sì Ho fatto anche io Dai pesci aggressivi Ok Allora è tutta acquatica questa qua Bella Di fatto sono sott'acqua Che sto cercando di capire come funzionano le Ma anche tutte le altre classi Utilizzano il tridente come arma sott'acqua No dipende C'è anche Io ho anche il tridente Non è l'unico Ah ma quindi anche Anche per quanto riguarda il combattimento sott'acqua Ci sono diverse armi Questo voglio dire Sì 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 Si trovano in giro Un sacco di armi Ah e comunque ricordo Anche al nostro signor film Che adesso si può automarchettare Oh madò Lo vuoi fare Ma alla fine di farmi automarchettare Nei canali E beh scusa E Carla E Dave Vedete io non mi oso Non mi fare brutto Ti rendi conto su che canale siamo Sì quindi Sì vabbè certo È anche mio Quindi si potrebbe Comunque il canale è Go Per chiunque lo voglia fare Comunque questo non muore Perché non muore È immune al danno C'è scritto E quindi Devi portarlo nelle cassette Che stupido che sono Seguimi Caro pesciolino Seguimi Come si nuota Allora con spazio va giù E poi Vabbè Con spazio dovresti andare su Ti ho detto vieni qua Stupido pesce Ma alla fine i poster Se li tiri Che cosa succede Niente Meraviglioso Perché ti sblocca Bravo A me è sbloccato una cosa Se non sbaglio Eh madonna Che casino È uno stogliarco Hai poster L'hardua Senza Intensa Ah yeah Sì Dai vieni tu Vieni qua Mi hai detto Allora ho la vaga sensazione Che ad una certa I graffiti respawnino Per permetterti di completare la quest Sì sì Vabbè mi sei dici Comunque Fortunatamente In live non si vede Però ho un calo di frame assurdo Quando mi giro Verso un gruppo di gente Chiudi chrome Eh ma c'ho in sottofondo la play No ma in realtà chrome Non mi dà fastidio Per quanto mi riguarda È solo che Quando mi giro Verso un gruppo di giocatori Quindi non NPC Giocatori Attenzione Ho un po' di cali di frame Ovviamente Perché comunque Ha da caricare un po' di rob Entrappola Ok ho fatto anche questa Entra Ma non è lunga sta questo Ah Restarci proprio sopra Che cazzo Oh graffito Ma più che lunga È pallosa Perché Io ne odio le cose nell'acqua In generale Nei giochi Trappola Trappola Ma voi nel frattempo State facendo un'altra quest Giusto Sì Bravo Io in realtà ho anche finito Quella questa Bravi bravi Abbandonati i compagni di squadra Complimenti Sto arrivando da te Ti sto aiutando Oh sono riuscito a stimolare I tuoi sensi di colpa Sono fiero di me Questo muore però Questo muore Manca solo una cosa Non trovo nulla Non riesco a trovare più graffiti Andare Finita Nardux Eh Ciao Nardux Questo è un ratto Sì Allora crepa Sì sì Che questo state facendo Per il cuore a sinistra Sì E mi sa che pure a me serve Un attimo che arrivo Tra l'altro vedo gente che picchia dei mostri Alleluia L'ho finita sta questa Arrivo eh Ecco anche distruggere mostri qui in giro per la mappa Eh serve Sì 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 Anche quelli vanno bene Veloce arco Federica de Lamb C'è un'agnella sotto di me Nardux l'hai scaricato o no? Dai su che ieri dicevi che lo volevi scaricare Che Però non so se abbiamo ancora posto in squadra Nardux è solo parole alla fine No però faremo la gilda così Faremo Dobbiamo capire come però Ma io non capisco Ah eccolo Ci sono eh Dal pescatore Will Giusto? Sì Perfetto C'è bisogno che ci parli giusto? No 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 Non ci devo parlare No è giusto per sapere Dal pescatore Will Yes Praticamente dice La missione del tuffare devi La protect the fisherman Ok dobbiamo proteggere i pescatori Ma come è invulnerabile? Eh grazie Gli sto lanciando del fuoco sott'acqua Grazie che è invulnerabile No 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 i pesci sotto Sono invulnerabili Ah ok Quindi sono invulnerabili Perché li devi spostare Nelle casse Ma con delle Delle casse Tu le Devi avvicinarle Sempre più possibile Quello che è seguendo Rivolvere è aggressivo Devi fare tipo Ghostbusters Insomma Esatto Io sinceramente Mi sto perdendo Cioè devo prendere le casse Le devo avvicinare a loro No no Devi avvicinare Il granchio sopra la cassa Poi clicchi la cassa E lo cattura Esatto Manca poco Dice Nardox 97% ha finito di scaricare Bella lì Tanto vedrai Che fra due giorni Lui sarà a livello 80 Conosce tutte le skill Io Nardox L'ho visto in questi giorni O almeno ieri L'ho visto giocare Ah no 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 Perché appena apri il launch C'è che stia giocando Anche a me lo faceva Che mi dava fastidio Ragazzi Sarò scemo io Ma non sto riuscendo a capire Dove sono i granchi Me qua Ammazzi Basta ammazzare anche solo i serpenti Sì Se ti rompe sì No Immunerabile Smetti di sparare Ok Sto arrivando lì Il tempo di trovarti E anche far riviviscere la gente Non attaccarlo Ah Devo farmi inseguire Ok Lo devo provocare Mi faccio inseguire E lo porto alla gabbia Giusto Quando è lui vicino Tremi sulla gabbia E lo cattura Ma guarda te Ok l'ho catturato A posto No è morta Ecco ho trovato un crab Pokémon La provo con lui Deglielo Nardux Nardux Guarda non ce l'ha questo personaggio Prima ci ha fatto vedere il suo nuovo PG come l'ha chiamato Ma per il se si avvicina sto demente Il fatto che Dragon Al contrario sembra che dica Vanguard Mi fa pensare che il tuo destino deve essere quello Addirittura Deve essere quello E se si avvicina sto demente Eh perché c'è ride sulla strada Eh esatto Ok l'ho preso A posto Sì praticamente Ho preso un Guardian Nardux E l'ho chiamato Sergei Drago Non va al contrario Giusto perché Ho tanta fantasia Nella mia vita Però fatto sta che è ancora quello Non riesco ad avvicinarlo No no tu no Io scherzo Non dico sul serio Aspetta A quanto pare non scherzo Madonna c'è gente che li incendia I PG Credo che siano gli elementalisti Sì indicativamente Persone belle Hardshell Poi ci sono quelli che puzzano Sono gli Ashell Grazie Reed Eh lui È lui Reed A me mi piace Il film per l'amadosca Ma vedi se questo Mi vuoi seguire per favore Anzi non per favore Mi devi seguire e basta Uh qua c'è un boss Un boss da Di quelli grandi Arrivo Un attimo che sono leggermente muoio Una cosa Io non so come chiamarlo il mio Ci passerei una Intanto non c'è ancora Non c'è ancora nessuno Vai tranquillo Benvenuto al mio mondo Perché L'ho chiamata la drabella Puoi capire no Se l'ho chiamata la drabella Un motivo ci sarà Interessante Vi aspetto E siamo qua dove sono io Eh io ancora devo finir Sta questo C'è il Champion Pick The Iron Arrivo Per ammazzare i boss così Fa veramente tanto Sì Infatti Si dà molte cose Arrivo Madonna Abbiamo inserito Lore In un contesto MMO E Lore avrebbe un esame lunedì Avrebbe Non hai un esame Ah ok Sì In linea prettamente teorica Volevo aiutarti nel No Io ero tranquillo Perché questo esame Non riuscivo a passarlo Ah ok Ottimo Quindi Non è che sto Prendo questo Al posto di No no Lo sapevo Questo te lo lascio State già combattendo? No Se vieni con me Lo prendi anche te Lo sai? No non lo sapevo Ah mi sa che me l'ha dato O forse no Bisogna combatterli insieme Perché sono grossi Lo attieni insomma Aspetta 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 Quara para panza Quara para panza Questi sono grossi Bisogna combatterli insieme Non dovevate partire così Ho visto che combattevate Io non stavo combattendo Ti ha dato? No credo di no Posso dire che mi sta un po' Sulle scatole Questa questa A naso proprio Non vorrei Ma quale Ah ma sei ancora quella? Eh io sono Vieni qua dove siamo noi Vieni qua dove siamo noi Devo finire questa prima No no E anche finirla dopo Non è che Ma voi siete con un boss Sì Arrivo 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 Help Grazie Faccio 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 Con me Con me No no Quanto siete lontani Non siete lontani Sono giù Help Again Mi piacerebbe anche picconare qualche albero ma Io non ho ancora avuto l'occasione Eh niente Io continuo a peccarmi I tempi non sono ancora maturi Ti scrive Nardox O film Io non riesco a leggerlo Perché altrimenti Arrivo arrivo Aspetta Help Per la terza volta Ormai Guarda Discord di Karra Eh sì Tra un po' guardiamo Ti posso dire che ora Sono io quasi giù Ok sono giù io Io mi allontano a nadie Perché è un altizio Ma ce l'ha con me Eh ma non so come allontanarmi Quindi No ma non l'arco Vabbè ormai Ma no Io faccio pure quei capelli bianchi Tutti MMA In una donna capelli bianchi Eh beh Magari chiamala anche la drabella A sto punto Oddio eccolo Ora riesco a distinguerlo Grazie a chiunque curi Prego prego Ti sto piovendo addosso Oh sì Non è quel Senti la musica è epica No io scherzo Non mi devi targettare Prendi film Ok arriva la cura Madonna Se ne sta scappando No ci carica Praticamente E si riesce Il brutto è quello Ahia Ah ma Ma ce l'ha proprio con me Allora Si muove troppo velocemente Non riesco a distinguere Quello che fa Sinceramente Ma bisogna ammazzarli tutti Anche quelli piccoli Ora ce l'ha con me Ora ce l'ha con i miei cloni Per fortuna Ora ha trovato me Beh intanto vi busto No tu stai ammattando un piccoletto Tu io vi busto Oh no ok hai ragione Hai ragione Sono su un piccoletto Stavo dicendo Perché non carica Non fa nulla Bro No no Aia Io scherzo Non dico sul se Aia Madonna sto switchando Ah ma io ancora Il potere della terra Non l'ho usato È un po' inutile Ma dipende Può riuscire a zonare I nemici In alcune situazioni Si però Pochi danni Ma anche quella dell'acqua In realtà Vabbè diciamo che Quella dell'acqua Fa poco danno Ma È fatta Olè torero Avanti ancora Torero Io non so Vi ho dato cose Non so cosa ho fatto Come si è svegliato Invade l'aria Di nuovo No c'è un altro C'è un altro Dopo andiamo a quello Bro Ti devo andare Davanti torero Ah Fortunatamente Sto personaggio Ha quasi solo Attacchi ad aria Per cui A forza di cose Lo colpisco Prima o poi Dici Ma io per fortuna C'ho questa arma Qui Nell'acqua Vanti Vini Caro mio No Niente Ok Dai 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 È quasi morto Eh c'è un po' di delay Nardux Per evitare lo spam Dei suoni Tra un po' dovrebbe Farti usare anche Quella So long And thanks for all the fish Ma quindi Dobbiamo finire Solo gli altri amichetti Manca questo Manca questo Manca male In frattempo Vi curo È proprio Guarda che Le tue cure Sono fondamentali Ma questa era una pippa Eh sì Rispetto agli altri Direi di sì Yeah Abbiamo finito No Ok Avete Tirato Cos Ma guarda che di là C'è roba Ancora Sono i mostri Questi qua Sono quelli del lago Sì Infatti Ma vi ha dato qualcosa Per caso No Bisogna raccogliere Bisogna raccogliere Dove 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 era morte Dove era morto Da su in alto Allora non è come Dove mi teleporto io adesso Qui dove sono io Cerco dovrebbe essere Ora faccio una bella I Ma dovrebbe esserci il cadavere Giusto Sì Ma io non lo vedo Dove sono io Non c'è nulla No infatti non c'è nulla Mi sa che Grazie per qualsiasi cosa Carla Ci sta ostando Grazie Carla per l'host Era qui ma Lo avete già preso Secondo me allora Ah sì Fammi andare a vedere Nell'inventario Sì sì Avere una specie di sacchetto Per quanto mi riguarda no Però va bene lo stesso No non è vero Neanch'io ce l'ho Avete In alto a destra Evento Successful Premuto la medaglia No Ma anche perché da me Non è apparso proprio nulla E questo è il problema Vabbè comunque Io devo tornare lì nel lago A finire quella quest Per cui Sì 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 Un revolver Un revolver È chiaro che è per pochi eletti Quel premio lì Ciao Carla Non so se per chi fa danni congenti Ciao Carla Ti ricordo che adesso Ti puoi automarchettare Carla Perché c'è il comando go Esattamente come in Un altro canale Twitch Molto famoso Che porta tecniche Ma anche no Porta tecniche con le braccia Diciamo così Ok Io lo chiamerei Invece di go Visto che Burst Pulmino giallo Punto schermativo Pulmino E poi Yellow bus forse Vabbè Diciamo che No è la madonna Diciamo che più è breve Meglio è Perché vabbè la madonna E infatti pulmino Magari è un po' più breve Di yellow bus Pulmino sì Già pulmino va meglio Un pulmino per tizio Un pulmino per caio Sai chi fa ridere la cosa Grazie per la specialità Non so come potrebbero prenderla Alcune persone Eh vabbè Andiamo avanti Intanto se sono quel tipo di persone Non ci arrivano Sì effetti Meglio così Ma c'è un altro boss A dopo Carla Patata Ciao Carla Patata Ah c'è abbia tardi Dove te Dove te Volete fare un altro boss ragazzi Sì Io non so cosa Io non so Se riuscissi a finire questa Queste Dopo sì E io sto facendo una quest qui Ah ok Io non so E dai Sarà per il prossimo Allora Ma perché dove è il boss Io Perché come è successo Che siamo tutti sparsi adesso E a Onions Lumberman Ma io sto visitando Ma ci metto poco A venire Ah vabbè Allora io inizio a seguire I punti Adatti Hai cambiato faccia Eh sì eh Hai visto Hai fatto la plastica Il signor drago Il signor drago Non revolver E Sergei drago Non va al contrario Come il mio nuovo personaggio Quante dovrebbero Revolver Mai abbastanza Mai quanto kuma Questo è proprio Quello Quello non devi neanche portarlo Qui c'è un'intera shield ragazzi Non mi Non mi esprimono Vorrei creare dissidi Vari tra di voi No 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 È bello Ma non come kuma Io Allora Questa quest Io lo dico in francese È veramente un dito al culo Allora Io ho 16 su 17 quest Fatte in questa mappa 3 su 7 hero point Punti di interesse Non ne parliamo neanche E Vedo che c'ho Una montagnetta qui vicino Da cercare Vedrà che lei l'ha presa Molto sul numerico Cioè lei non uscirà Da una mappa Finché non completa tutto Nì Nel senso Lo facevo anche col char Poi mi sono rotto E ho iniziato ad andare avanti Con la storia Il film ormai si fa le formule Sì Ricorda Niente non funziona No donno No ma giusto per la zona iniziale Poi dopo non lo faccio più I pimpi è dietro In cui il film diceva No no ma non mi farò prendere No no ma non lo trasmetterò No no ma non rinuncerò La mia vita sociale Oddio me l'ha data completa Poi è successo Ma è colpa tua Io te l'ho detto Io l'ho riscaricato Solo perché sapevo Che poi Che un po' mi mancava Non vi vedo O meglio sì Ma non vi vedo tutti Eh io sto Sto qua che stavo facendo C'è C'è un boss Voglio andare a farlo Non so dove sia però sinceramente Ora sto guardando la mappa Cercando di capire Ok Forse si trova Qui Vi linko il waypoint Ok Con Kuma Possibile Abbiamo fatto pvp E abbiamo vinto E ci siano levati le giornaliere Eh mi sa di sì Ma va Eh ma come è sgravo su ste cose Mi sa che lì Andiamocene lì Vai 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 Ah ci sta Eh ma io non ce l'ho quindi Ciao Ah no 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 è lì vicino a noi Come lì vicino a noi Ah perfetto Dove sono io Io non so dove sia Eh ma infatti sto seguendo te film Perché là c'è un punto di interesse È lì davanti Eh io vedo punti E qua Qua c'è una battaglia Sì E c'è anche tantissima gente Infatti le frame Che mi stanno chiedendo aiuto Tu non hai mai incontrato Come si chiama quel drago enorme Dave Quello dove ci sono un sacco di person Il Decathlon Mado Decathlon Mado Sì tipo Time il countdown Per ogni boss Oh madonna Ah ok Quindi magari quei miei amici Se lo ricordavano Perché lo facevano spesso Per farmare Iniziamo alle ore 17 C'è tizio Curati curati Disgraziato curati Ah 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 Madonna che danno Io sto morendo Sto morendo Io sto slittando Oh mio dio Cos'era il final flash Aiuto Ma ragazzi Ma perché non muoiono Crepo Crepo malissimo Se ho il permesso Di mettere il link In live Questo qui ragazzi È il link Con tutti i countdown Dei boss Madonna E il Quello drago lì Che a che ora Con tutti Che uno di questi boss Lo stiamo provando Ad uccidere In questo preciso istante Perché No Aspetta Crescent Hierarch Quello è un veteran È un veteran Anche abbastanza Bastardo Sì 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 Una cosa Cui Dovete stare Attenti A posto Fermatevi Fermatemi Se divento troppo pedante Perché non Non mi piace esserlo Però Alcuni boss Ma tu puoi fare quello che vuoi Qua dentro Alcuni boss Hanno Quella Barra sotto la vita Perché Chi Ha la possibilità Di buttare tante condizioni E altre cose Gliela abbassa E gli altri lo trattassano Se invece voi Non gli levate Quella barra Diciamo di protezione Non Non va giù Non va giù Ok Ne abbiamo ammazzato uno Per esempio Sì A sto giro Mi sa che mi ha dato Qualcosa di più sostanzioso Infatti Guarda lì che roba Però non sono finiti Ora sì Una specie di zanzara Che si riproduceva Più 4 di vitale No no Ma io non ti ho detto Di cercare roba Ma quindi Quel ticcio lì Ma è finito Oppure Sì L'abbiamo fatto Eh c'è un altro Credo che ci sia Un altro boss No 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 Non è finita Come non è finita Ancora un minuto qualcosa Guarda Come guarda E guarda tutto in mezzo Ma io non ho niente Ma dove siete? Allora io sono conmigo Partiamo da questo presupposto Sarò io Chi sono Ah lui È ancora la città È trovato indietro Ah ok Allora lo vedi Siamo in due punti Completamente diversi È di da solo con quel boss però No 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 C'è altra gente qua Ah ok Vediamo se riusciamo a Innanzitutto a capire dov'è È questo? No quel è Reed Ok Qua c'è il mostro Qua c'è un L'ho linkato Ah l'hai linkato? Sì sì Ah ma siete lì Lì posso venire Arrivo arrivo Arriviamo Arriviamo It's time to run Andiamo andiamo Posso mettere il vampirismo È il momento di avere dei tesori Senza aver combattuto affatto Andiamo No ma io voglio farvelo vedere Quel dragone enorme Poi quando Dave Tanto c'è posto Dave Se vuoi vi raggiungerci Madonna che casino Devo devo mangiare Appena mangio Perché tra minuti Tra minuti Ho che minuti Io pranzerò fra un bel po' Mi sa oggi Quindi Non lo so No ma non perché Non per il gioco Tranquillo Dicono tutti i fiori Tu puoi smettere quando vuoi Guarda che È voodoo che non pranza Sono io quello scemo Sì c'era un altro Tra un po' Tra qualche altra parte Che immagino che No infatti io forse io non ne trovo Giustamente siamo arrivati alla fine Non è che possiamo E quindi mo stiamo aspettando Che c***o C***o che è oh Cosa Andrà via Ma l'ho visto solo No No Ok 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 È pregata Nardux Bella Nardux È pregata di guardare Discord Ah già è vero scusa Nardux stavo Tipo Ma anche gli altri Voi siete tutti refullati Giusto Sì Pubblica Ragazzi Se sentite mobili Che si spostano Abbiate pazienza Non è colpa mia Fin gioco poco Hai MMO con l'H Però io ti banno Come senza H si mette Non si scrive Agli Agli Va bene Comunque così Aspetta Fa vedere Io prendo la scusa 99 ore di che cosa Però Allora Di 399 ore di Closers Ah di Closers È uscito a dicembre Ti dico soltanto questo Ma in questo momento Di preciso Che cosa stiamo aspettando Non lo so Era finito Era finito Aspetta Io ho visto che ci sono Prendo la scusa Sono tedesco Non so l'italiano Tiè Ma no Con quale scusa Era giusto per capirci qualcosa Più che altro Allora Vediamo un po' A me manca un task Qui manca un task Eh anche a me Infatti vado a prenderlo Un task Eh in quale task No 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 Io ho preso tutto qua No Un task Poi Questa sono i task Già aspetta I quadratini Eh le queste I cuoricini Ah ok No Io vado a prendere I quadratini invece Ah e qua c'è un altro Un altro evento raga Arrivo eh Dove sono io C'è un evento bello È tutto È tutto incendiato Lo soffriamo a fare Bellissimo Non posso dire A quale città somiglia Però è bellissimo Ah A Pompei Pompei Come scusa A Pompei Ok mi sa che dobbiamo uccidere i centauri qua Eh forse questa la E questa la Ma livellare ci vuole tanto Poco Ma all'inizio è abbastanza facile Guarda In realtà Se giochi in gruppo Quasi non te ne rendi neanche conto Sì io sono a livello 18 E giochiamo da due giorni Anche perché non è Una cosa fondamentale Livellare No perché alla fine Rispetto a dove sei Fa scendere il livello Esatto A seconda di Ah quindi i mob scendono di livello Nel punto che tu vai No Tu scendi di livello Tutto viene rilanciato Tutto viene rilanciato Che mi ha dato l'espansione La prima espansione Però qui a Queensdale Mi dava livello Sì un personaggio di livello 80 Però livello effettivo in Queensdale Era tipo 4 Indicativamente Ma questo evento C'è ancora? C'è questo No ma sono Alcuni sono randomici Altri sono ogni tot tempo Ci sono Allora ci sono le Queste Quelle che trovi sempre Quelle che devi completare Per completare ogni mappa Poi ci sono le Queste randomiche E poi quelle Dei boss Di boss Che appunto sono ogni tot tempo Come diciamo Prima c'era il Detto qualcosa Un drago enorme L'elementalista Mi sembra veramente OP Perché fa danni Cura Te la mette al culo Alla speed Avrete fatto Elementalisti Ho visto Ci siamo C'è Chi è Elementalista Anche io Abbiamo due Elementalisti Tipo Red Revolver Dai Basta che uno Ci accende ogni tanto Il fuoco Così ci facciamo Due Due grigliate Ma io sinceramente Visto che sto stronzo Mi vada a informare Di più Prima di farmi Il personaggio Vado a cercare Quello buono Per il pvp Perché io amo Io se gioco Agli MMO È solo Per il pvp Assolutamente Infatti io Mi sono fatto L'ennesimo personaggio Che secondo me Sul pvp Non va bene Dopo il run Posso fare Il pignone Non esiste Il personaggio OP Per il pvp Perché Mi dispiace Di infrangere Eventuali cuori Ma Guild Wars Non è di Non è quel genere Di MMO No È cooperativo Quindi Tu puoi avere Quello che Da solo Spacchi il culo Ma se c'è qualcuno Che ti butta Condizioni Tipo in dalle spalle Tu vai giù Comunque È cooperativo Quindi Io per esempio Una cosa che tutti Mi hanno sempre Sconsigliato di fare E faccio È avere Un solo personaggio Perché l'ideale Sarebbe avere Se non più personaggi Che di età troppo Estenuante Per lo meno Diverse build Perché ti devi Saper adattare Cioè se vuoi davvero Vincere Devi saper collaborare Dire Entro in pvp Perché sono al meglio Arrivo subito Non tu Non tu Dico in generale Perché ho visto Che molti Arrivando da World of Warcraft E altri Dove hai le armi Oppi Eccetera Pensavano di entrare Spaccare i culi Ma in pratica Come il pay to win No steal In pratica come il pay to win No steal Cosa del genere Invece Gearworks 2 Cioè ieri Appunto stavamo parlando Che se tu vuoi andare A fare pvp Non hai bisogno di armi Chissà cosa Vai dal venditore Prendi quella da un rame Perché a te interessano Solo le abilità Di quell'arma Non interessa Il livello Eccetera No perché io Allora io dico la verità Io gioco E gli mmo Allora per stare in gruppo Sì per divertirsi Con gli amici Sì Però soprattutto Io amo il pvp Non so per quale stanno Tu hai mai giocato A pvp di gearworks 2 Eh no Mai giocato purtroppo E se lo provi Ti renderai Guardi dico provalo Provalo Perché adesso magari Ti dico cose che non Entrano da una parte E sono dall'altra È finita Però Sì Ma non è quello Il tasco che mi mani Ma questo gioco Non è a target È a target Cioè ti mette il target Sul nemico E te lo vengono Se vuoi No No nel senso Tu Allora dipende molto Dal Da cosa ti sei fatto Perché Se hai I personaggi Come il mio Per esempio Io vado molto ad aria E con i minion Sono un romante Serve ben poco Targettare Quando utilizzi La tecnica ad aria Quando invece Fai l'attacco diretto Sì Torna comodo Però Principalmente Torna Torna comodo Per il gruppo Perché c'è un tasto Che fa vedere A tutti L'obiettivo comune Quindi tutti Poi si Che figo Piove Qual è Il tasto Allora facciamo un bel Cassere Ti credo ragazzi Per fare cosa Scusate cosa mi son perso Per mettere il target Per farlo vedere Tipo ai Ah si ma nel pvp No nel pv anche Credo No è sempre sempre Perché ovviamente A volte ci sono dei boss Con the minion E bisogna farne fuori Uno prima di Le sentinelle In poche parole Del boss Esatto Eh ma Facciamo così Per fare una cosa bella Ah se vedete dove sono io Ci dovrebbe essere un boss Del zulu E c'è ora Abbiamo Due elementarie Di coltarget CTLT E alt E shift Io sono mesmer Ah è vero Con il control t E la madonna Ah control t Control t Allora Ci sono due elementarie Un assassino Che sarebbe film Sì ma Potrei anche Diventare un giorno Asura Guerriero Cosa che voglio fare Sì Io sono un mesmer Esmer Comunamente Alla non ci sa un cazzo A post No però Sto usando l'assassino Ma poi voglio anche provare L'assassino A livelli alti Va invisibile Sì 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 ha la La build a post C'è la La skill Che diventa invisibile E quanti secondi Sta invisibile Non mi ricordo Ma un po' Però Almeno Hai tempo Hai tempo di scappare Ho letto Che se la fai E stacchi Può durare anche Due o tre Giorni La leggenda Nar Oh figo Non riesco a capire Che devo fare Sicuramente Come la penso io In tutti gli MMO Dovrebbe essere forte In pvp Visto che c'ha l'engage Fatto bene Da invisibile Tipo Wetis Tro male Quindi non saprei Ok abbiamo qui niente Ci siamo persi Il boss Ragazzi Magno No non c'era Il boss A dopo A dopo Qui poi c'è Il film che mi dice Che l'assassino Fa cagare E poi No 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 L'assassino Semplicemente che secondo me Nel pvp E' figo Ma Devi lavorare di astuzia A sto punto Cioè Scusate se mi faccio La fare mia Ma sono andato a prendere Dei cannocchiari Mi sentite vero? Sì Ora sì Sì No mi ero mutato un attimo Per parlare Di cose Che devo fare Sì sì Si vede nella webcam Che si deve a ridere Perché Non lo so Stava parlando con qualcuno E si metteva a ridere Ho detto tutto Ma questo Io non vedo qualcuno Scusatemi No E' Reed che è da solo Io sono andato A prendere un cannocchiare Scusate Tu sei abbastanza vicino a noi E poi non vedo lì Dove lo fare No io sto facendo l'ultimo Questo Io voglio la Gilda Burst Damage Basta Eh ma forse La chiamiamo ragazzi speciali Ragazzi Io ne ho ancora due Di queste da fare Io ho finito tutto La mappa Ah eccola qua E questa è la Queste che mi mancava Della mappa Ah vieni Vieni qua Deiolo E io Mi faccio l'ultimo Io vi ho perso di nuovo Deiolo Non riesco ad uscire Deiolo Sì che ci riesco Io ne ho ancora Mi toccherà leggere Eh sì Comunque hai una voce simile A qualcuno che conosco Ma non riesco a capire chi Veramente Eh lo so C'è la voce simile Alla mia Eh sì 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 E' uguale E' uguale Krooog By hunting Atkins And batting Centauri Ancora 600 euro E' buona Mi sa che c'è un quadratino Da svolcare là Appunto un interesse L'ho preso Ah c'era un hero point Laggiù Sicuro di non averlo Già preso E' giallo Comunque qui Non succede nulla Io e quei Poi vincere tutti Sono io Però Devo farlo anche io Stanno arrivando i cittadini Mi siete sparsi Mi siete sparsi Talmente larghi Che non riesco a capire Sì ma infatti Non so come sia successo Comunque l'hero poi Trovo da prendermi Adesso se vuoi aiutarmi Un attimo qua Facciamo questi Ovviamente Sai che devo fare Dietro fronte Proprio a naso Noi ammazzo Tutto quello Che è il metodo rosso Non riesco a capire Che devo fare Sono il toro Questi magari Li stul Che bello Fa dei trasporti Fighissimi Sto ladro Ok Mi sa che Quello è lo stesso Ero point Che devo raggiungere Ma l'arciere Che sarebbe Un personaggio Della classe di film Dopo un totto livello Può avere Tipo della sottospecie Di ali Una sottospecie Di jump Tutti hanno Annalisi Ah tutti È un'abilità base Sì ma non ho capito Come si ottengono Io ho le ali Però per esempio Non so come attivarle Mi sa che qui C'è la questa che mi manca E film Quindi dopo la andiamo a fare Perché forse Potenzialmente Manca pure te Questa qui Ma è la stessa Mi sa È la stessa Infatti La stiamo Credo facendo L'attiviamo Anche a me mancava Questo qui Ah ma c'è anche Il berserker Faigo Molto faigo Eh il bk è sempre Faigo Perché è bella No no Mi riferivo a quello Che abbiamo appena fatto Ah ma vaffa Senz'è ancora Spawn 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 Ma lì sopra ci sono tipo Ehm Minerali Si? No? Forse Mission complete Alleluia, forse ho capito che devo fare No, mi sa di no Ok, quando ci siete E qua dobbiamo far fuori i centauri Poi dalla prossima cerchiamo di andare tutti insieme No, è vero, mi sa che anche Scusami A me ancora no Dobbiamo Dobbiamo comunque Dobbiamo comunque sconfiggere i centauri Ah, io l'ho fatta Ah, se mi ha dato una mano Sì, sì, sì Dico, se me la volete dare una mano No, dico, se mi va di darmi una mano Cuore fatto, tutto tuo Prima lo sto facendo scaricare anche un mio amico Così mi fa compagno, visto che voi avete il gruppo full Eh, sì, sì Ma io poi non so come funzionano le gilde Cioè, nelle gilde fondamentalmente Non lo so Io, te lo ve l'ho detto Io ho fatto parte di questo MMO quattro anni fa Però non ho mai neanche capito cosa stessi facendo Quando giocavo Tu Revolvera ancora devi fare? Sì, io ho visto Voodoo che mi ha portato un ragno E dopo è scomparso Cosa? Così in amicizia No, non è vero Ah, è vero Lo vedo io Ma come c'è arrivato? Ma questo è un elite Ma da un botto di espo secondo me sto ragno Me no, me no Le vo Bro È andato Io arrivo troppo poco Minerale A frappare Comunque le cule di Revolver sono molto utili La voglia Poi forse lì a destra ci sono anche altri centauri che a me quelli Io qua sto vedendo l'omino che si muove Quindi per sbloccare la zona devo seguirlo, mi so Io non ho capito dov'è che è l'ultimo cuoricino che non ho fatto Ah, vedi che ha sbloccato la zona Ah, miseria Lo dovrebbe dire però In teoria sì Ah, 17 Mi mancano poi gli hero point E le cose Ma quelle sono poco importanti in realtà E vabbè i quadratini Ma quelli poi me li faccio anche con calma Che bello Ho completato la mia prima mappa Quest'anno Ah, ma sono già full No, vabbè Film, questo te lo posso dire Il berserker lancia le mucche sulle persone Cosa? Ma veramente? Ma ti giuro È stupendo La classe più bella del mondo ne voglio uno Ma altri centauri tipo? Devo aspettare che respawnino, vero? Mi sa di sì Ah, ok Ho trovato il vicino che mi manca E non lo farò da farmare Prossimamente Basic 2i natura Restore your health Eh? Cosa? Con questo qua Con questo qua Allora Diventi stealth Gaining regeneration Ah Vado Ti stelti e ti fa recuperare salute Divento invisibile e recupero vita Che bello Sono invisibile Però duro pochissimo Ti fa diventare invisibile Se tu riposo Guarda che non va bene No ma più che altro Perché credo debba livellare questa build E questa skill Vabbè dove siete tutti? Proviamo a... Io sono ancora con i centauri ma non ne trovo più Cioè dovrei uccidere altri centauri ma non ne trovo Ah via qua Via qua Via 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 Qua ce n'è uno Eccoli sono respawnati Ma no perché sono andato Che cazzo di missione è la merda Madonna guarda qui che è pieno di centauri direvo Ci sono ci sono Sto già uccidendo uno New events Madonna quanta gente Devo trovare il modo di inserire quel tasto 6 da qualche altro tasto rapido Perché veramente Fatto Troppo lontano il 6 Come forse la B Il meglio sa vi tasti fino a 8 Io non ci arrivo fino a 8 Ho le mani piccole e cicciose Non ci posso fare niente Le mani piccole cicciose Questa mi è piaciuta Che razza di scusa è il film Sì No l'Anna Cristina è quella non mi interessa La B Li metto la B La B non fa niente No non è vero La B fa tutto Apri il World vs. Sword Mannaggia ma tutti i tasti sono occupati È G È pure il World vs. Sword Cosa che probabilmente arriveremo a fare Ma sì che ci arriviamo Aspetta se io premo C Allora a me manca un punto di interesse Due viste E due Hero Challenge Vai a capire dove però Ah bello Ho fatto una cosa che non c'entrava niente con il cuoricino Non fa il cuore No dai ma mi fate impostare i tasti centauri maledetti Se non hai impostato la Z per rinfoderare l'arma Lo puoi utilizzare per poter fare altro Perché la Z non è occupata Ok sono tutta la Ah Vabbè per ora uso la C che effettivamente la C mi viene easy Volendo posso postarci la C Ho questo un ragno molto speciale per quanto meno Ok E' un bingo speciale Sì Use by Mons Ah no è per la Mons Maledetta la vita Vabbè ma tanto non ce l'ho la Mons Oh sti raid Ma mi fate fare sta roba E' più così che in futuro Quando ho trovato la Mons Oh raga non mi fa mettere la Mons Ah vedo c'è la skill Eh ma sarà così per forza Ah io l'ho messo sullo shift Per esempio Che se non sbaglio non c'era nulla Sullo shift è vero Forse non c'è nulla Sullo shift Non c'è il cazzo di lotolino Come cazzo si chiama No No era la V quella E' vero E' fastidiosa la V E' vero lo shift Potrò per me anche due volte Io sullo shift per esempio Ci ho messo il cambio d'arma Da una mano all'altra Ah no il cambio d'arma L'ho messo sul tasto del mouse Io mi teleporto da loro eh film Si 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 Quindi se dovessi avere Se c'è freddo ricorda che si è scoperto Ma guarda secondo me il cambio d'arma è meglio usare le F1 F2 e F3 Vaffanculo Ma lì ho delle abilità Eh? Lì ho abilità E' come se fossero delle stance O meglio In altri MMO sarebbero Cioè sono considerate stance queste cose qui Ti porto l'esempio dell'elementalista Switchando da F1 a F4 Praticamente passa dalle skill del fuoco Piuttosto che le skill dell'acqua Esatto Gli elementi Ok Io dovrei fare questa skill Dai vai Ti seguo Dimmi quale hai da fare Che io ti seguo Sì però devo riuscire ad entrare in qualche modo Perché No l'ho scappata Vai dritto Vai dritto Già strada lì Perfetto Ma sei anche tu qua? No Ti vedo la mappa Io sono in giro a fare le ultime cose Madonna Però non capisco Comunque guarda Dico una cosa Nonostante Gabal 2 sia un gioco veramente schifoso Aveva una mount che mi piaceva veramente tantissimo Ed era la mount standard Era uno struzzo Che aveva un colore molto gaio Però uno struzzo come cavalcatura E' un qualcosa di bello Proprio bello Voglio uno struzzo come cavalcatura Nella vita reale Così ci vado al lavoro Allora E poi alle donne Ehi Gambola Puoi salire sul mio struzzo Vuoi vedere il mio struzzo? Vuoi vedere anche l'altro volatile? Si riferiva al pene Per questo faceva ridere Ok Play Ma io non ho capito cosa devo fare Va bene Non mi fico in casa Accetta Va a vedere Madonna Ah lì vai in mezzo al campo Vai in mezzo ai campi Dentro al monastero Ah facciamo una cosa Ah dentro al monastero? Sì Ma chi è il livello 28? Chi è il nerd qua? Sono io Ti recuperò E' inutile Ti recuperò E' inutile che cerchi di esparci Ma lo so Allora Ok vado dentro il monastero E cosa faccio? Ci sono In mezzo giardino Ci sono delle specie di vermetti Sulla vicino a terra Film In che servono ad andare? Aspetta un attimo Ah Non mi ricordo Quale era il nostro Ma comunque non cambia molto Penso Sia indifferente Perché io l'ho preso a caso No Più che altro Per il W Però mi sa che difficilmente Saremmo tutti quanti Ragazzi non ditemi Di scegliere server a caso Che dopo faccio un'inchiata E l'importante è così Server in che senso? No no Allora Se ti riferisci Se ti riferisci ai world Quelli non sono server L'importante è che entri nel server europeo E in teoria Te lo dovrai dare come server standard Cioè quello di default Il mondo Puoi scegliere qualsiasi mondo Perché Quello non ci interessa Tanto ci incontriamo lo stesso Ok forse sono riuscito Grazie Guido per l'host È appena arrivata la notifica Bella Guido Forse sono riuscito A impostare i tasti Anche per le skill di destra Utilizzando Shift 1 Shift 2 Shift 3 Shift 4 Il problema è che Quando premo shift Lui attiva La skill 1 È giustamente È Quindi Devo premergli Oddio Io ti sto osservando dall'alto Voodoo Se hai bisogno di aiuto No shift per Shift per Non mi Non va bene Lo sto anche levitando Guardate sono un mago Bellissimo Guardate io mi sto prendendo Un po' di tempo Per impostare questa storia qua Di A me mi ha dato Una specie di mappa Mi fa vedere Una specie di vulcano Va bene Non vedo più verni No è Respawnano dopo un po' Me la ricordo sta questa Eh questo è un barile Che ti può servire No mi sa di no Perché lo fa prendere a me Vedi un po'? Dove te lo fa portare? Boh Lo porterò qua Ah ma questo è un ingrediente Lo posso depositare A posto Master Brewery Giustamente Vende birra Magari serve anche a qualcos'altro Non lo scopriremo mai O perlomeno lo scopriremo Tra qualche livello Film Un attimo Ok Yeah boy E' caruta film No praticamente adesso ho trovato un buon settaggio Quindi se io premo shift 1 Shift col tasto del secondo tasto del mouse Ma per fare il BK Ma per fare il BK Che cazzo di classe devo scegliere? Il BK Ah ah Berserker Che animale è? Ah il berserker Il guerriero Ma in realtà Vai un po' a naso Magari consulta anche qualche forum Ma il berserker mi sa proprio di Big Per cui sceglierei O un Nord Si chiama così giusto? Warrior Sì sì O un umano Oppure un Char Io faccio una cosa Io credo che aspetto Film Blu-ray dove sta? Ma perché non mi sentite ragazzi? Sì che ti sentiamo Ah Cioè no scusa Film è caduto però ti sentiamo Dai Oh sono contento Sono riuscito a trovare dopo tre anni Una serie di tasti Dove potrei forse riuscire a fare anche le altre skill Build Wars Ecco una cosa che effettivamente forse manca in questo gioco È la skill bar aggiuntiva Però per le meccaniche che è al Guild Wars Forse Cos'è una skill bar aggiuntiva? Praticamente Una skill bar aggiuntiva Cioè E che fa? È una skill bar vuota dove ti fa aggiungere altre skill fondamentalmente Cioè ti permette di aggiungere proprio altre skill Perché per Guild Wars è inutile Sì per Guild Wars è inutile Per le meccaniche che è al Guild Wars effettivamente sì Ma voi qua cosa dovete fare? Che io vi so se Non sarebbe anche comoda però Forse è Voodoo da completare una quest È la mappa dei vermetti È la cremosa dei vermi No non è ancora finita Ah già ho capito qual è questa Eh ma noi non possiamo aiutarlo forse C'è una cosa vicina No puoi aiutarlo Vedete che c'è il driveback Sì c'è un evento E stanno arrivando i centauri Avete da fare Sì praticamente sì Eccoli eccoli rivedo Tra l'altro mi sa che è quella di prima Non vorrei azzardare Io continuo a tirare comp Un pezzente Se ne è anche un centauri Oddio non è proprio comodissimo effettivamente Dei lo shift Ti devi fermare per premere shift Che che finischia? Ma a questo Cioè gli stanno uccidendo la famiglia A questo lo fischia È giusto Non tutte le famiglie sono uguali Come stai Guido? Qual è lo scopo del gioco? Come tutti gli MMO Non avere vita sociale Fondamentalmente se riesci a non avere più amici Allora ok hai vinto Poi tra l'altro sono sicuro che Qual è ti ha un po' fatto morire dentro Sì Annasolo Ho riscato di far finta di nulla Non ne posso Giulio questa Arriva uno col drago Io voglio le mount Arriva uno col drago Col drago Cosa? Cosa mi stai dicendo? Che ho l'alimentario pieno Una carta trappola Una carta trappola A chi le devo portare sto Sta cassa Che si stava rubando Non ne ho idea Ma Ah Guido è felice Non è più incazzato Siamo contenti Guido Va bene Va bene Ma Scusate perché Non abbiamo ancora completato Quello che dice Che stolen Cos'è? Eh perché stanno arrivando Altri gente Ma 0 su 10 mi dice C'è qualcosa che non sto facendo io No no ma è positivo Perché loro stanno cercando di rubarli Se ne rubano 10 Abbiamo fallito la quest Ah ok 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 Ah ecco il tizio che ho ucciso Che stava rubando roba Era quello che è Ok ok Dobbiamo camperare l'entrata del villaggio Burst Damage E qui Deglielo Io qua vi spawno un arco Sapete voi quello che volete fare Eh Se l'è fregata Glorianca Ma maledetta Eh credo che sia parete di dragon Comunque Glorianca Probabilmente si Arrivano No ho sbagliato Ah ora ha funzionato Però non volevo fare così No ho sbagliato tasto Vabbè non fa niente Io ho dei problemi di fondo Con il mio Ah Che stupido Ah sto iniziato a capire alcune cose Ragazzi qualcuno se conosce Meglio di me Willworth Come cazzo si chiama Willworth Vabbè Quello che cazzo sia sia Mi potrebbe dire per favore Qual è la classe per fare il BK Slash Berserk Eh Dave Secondo me ti diranno tutti la stessa cosa Tutti Un guerriero Figo Un guerriero Cosa vuoi che sia Abbiamo fatto un evento già Sì Abbiamo terminato Allora facciamo una bella cosa Noi volendo possiamo continuare Però Però Sto pensando Di spegnere la live Per il momento Facciamo così Facciamo una bella cosa Noi chiudiamo la live Vi ringraziamo per essere passati Guido Naspi Non è vero Naspi non è passato Film Che si può automarchettare Che è passato Adesso purtroppo è caduto Poverino Però Vabbè io mi marchetto Perché così vediamo come funziona Il tutto Però noi possiamo continuare a giocare Vi ringrazio per averci seguito Ci rivediamo alla prossima Ciao belli Grazie a tutti Grazie a tutti